eccoci seconda parte del video del tofu qui l'indicatore della temperatura mi dice che siamo a una bella temperatura ed eccolo qua praticamente il tofu che posso anche girarlo ma non cambia niente perché tanto la pentola fa più o meno la stessa temperatura da una parte dall'altra diciamo che una volta che l'indicatore è a metà vuol dire che dentro abbiamo già i nostri 100 gradi allora questo lo prendo ho preso una pinza un po sbagliata ecco qua per me è già a posto sono passati neanche cinque minuti adesso questo posso condirlo con delle verdure un filo d'olio al limite e questo è il mio piatto pronto praticamente da mangiare piatto proteico un piatto gustoso perché il tofu è molto ricco e con questo con la curcuma è molto buono ti invito a provarlo ci vediamo al prossimo video ciao da giovanni nani tv